Eccoci qua, oggi è il 25 aprile, è l'anniversario della liberazione di 75 anni fa dal regime fascista, ma dopo più di 70 anni, penso alla fine da cosa ci siamo liberati, e poi riguardando la storia, alla fine quale liberazione c'è stata. Io non vedo nessun'altra liberazione, in teoria da come di solito siamo abituati a festeggiarla, a ricordare, non mi sembra che ci sia stata una liberazione, anzi c'è stato quasi un paradosso, nel senso che come viene descritta, viene vista, dovremmo essere in un regime comunista, dovremmo essere comunque avere una storia profonda, una storia negli ultimi 50, 40, 50 anni di un regime comunista simile appunto all'est dell'Europa, che come molti vogliono far passare la liberazione dell'Italia, sembra che tutti i partigiani fossero comunisti, tutti di sinistra, anarchici eccetera, e che anche paradossalmente gli alleati, gli inglesi, gli americani erano comunisti, tutti di sinistra, tutti antifascisti, sì, ma secondo me non tutti gli antifascisti e non necessariamente antifascisti. Il fascismo c'ha molte fazze, c'ha molte sfumature, come anche il comunismo dopo tutto, dopo tutto non è che solamente perché uno è da una parte era comunista e l'altra dall'altra era fascista, ci sono molti comunisti, soprattutto il comunismo stesso di Stalin e altri regimi, comunque il comunismo stesso ha commesso dei crimini molto prima del fascismo, anzi da un certo punto di vista il fascismo e il nazismo ha solamente imparato dal comunismo e questo poteva essere un puntato d'orgoglio per noi, ma io in questi anni comunque ho sempre cercato di rimanere coerente con le mie idee, con la mia posizione, con il famoso centro di gravità permanente e mi sono posto quasi al di sopra di tutte queste ideologie, un livello più alto, non che io ne sappia qualcosa perché io non ho studiato, io sono un povero ignorante, un povero operario del cazzo, però cerco di guardare le cose con obiettività e non riesco a vedere tutto tutto sto antifascismo nella sinistra, c'è molto strumentalizzazione, soprattutto adesso vogliono fare quest'anno e festeggiamo la liberazione, liberazione di cosa? Una volta almeno avevamo un nemico, c'era un nemico, c'era qualcosa da combattere, adesso? Adesso i nemici siamo noi, cioè chiunque persona oggi nel 2020, 75 anni dopo, persecuzioni, stermini, deportazioni, ora siamo tutti, tutti possibili deportati o deportabili, tutti possibili criminali, tutti banditi come si diceva allora, non vuol dire essere partigiani o simplici cittadini o fascisti o comunisti o zingari o omosessuali o invalidi o ebrei o altre cose, adesso il paradosso è che sei un criminale, sei da eliminare, sei da reprimere, solo per il fatto stesso che sei sano, adesso ho trovato, ho trovato, c'è, vabbè facciamo, ok avete ragione, in questo momento di pandemia hanno trovato il modo di criminalizzare l'umanità, cioè l'umanità stessa è da eliminare o comunque da reprimere, come se non esistesse la razza perfetta, ma esistesse un'umanità infetta da curare, da curare però da cosa? Da un virus? E come si fa a curare un virus? Discutendo su un vaccino che non esiste ancora, discutendo su improbabili regole che non riescono ancora a definire, rilaborando certi comportamenti che non riescono ancora a definire, abitudini, usi, costumi, tradizioni che in secoli di crimini, di violenze, di repressioni non sono mai riusciti a sradicare e adesso in due giorni, in una settimana volebbero risconvolgere completamente tutto, parlando poi di ricostruzione, perché il paradosso è questo, oggi si parla di liberazione, la memoria e tutto quanto, ma si parla anche di ripartenza, di ricostruzione, come se fossimo stati in guerra, come se fossimo in guerra, è anche lì un altro paradosso. Oggi tutti giustamente festeggiano, non onorano, non ricordano i partigiani, le vittime, le cadute per la lotta e per la libertà. In un certo senso, e qua dobbiamo baciarci i gomiti veramente, in un certo senso anche noi, nel nostro piccolo, nel nostro piccolo grande angolo di realtà, quest'anno, in questi due mesi, due o tre mesi, siamo stati in un certo senso partigiani. Magari giustamente non abbiamo rischiato la vita, perché non necessariamente rischiavamo la vita per essere uccisi o deportati o torturati, ma rischiavamo la galera, rischiamo la galera, solamente, semplicemente, magari solamente per fare la spesa, per sopravvivere, per cercare di continuare a vivere come abbiamo sempre fatto, in questi comunque ultimi 70 anni, facciamo così, no? C'è tutto quello che avevamo, o comunque avevano, io non vi ci metto perché, ripeto, posso baciarmi i gomiti, perché ho avuto la fortuna di, come tanti di noi, di essere vissuto in un periodo storico abbastanza, te virgolette, tranquillo, con tutti gli alti e bassi problemi e quant'altro, fino all'anno scorso, perlomeno, ma anche quest'anno, bene o male, a parte tutto, sì, è andato tutto bene, dicono, sì, va bene, insomma, in un certo senso, siamo tutti partiziani, tutti nel nostro piccolo, in queste settimane abbiamo fatto il nostro piccolo atto di erodismo, c'è chi è riuscito a continuare ad andare a lavorare, chi è impegnato in prima linea, con magari medici infermieri, ma non solo, anche altre categorie, ma anche solamente mettersi in fila per andare a pagare una bolletta, che è già pagare la bolletta è un altro terrorismo, o mettersi in fila al supermercato, tutti in un certo senso, per come dicono, per come la girano, per come la vogliono mettere, mi ha rischiato la vita, è schiavo la vita, perché c'è questo virus che sta girando, che continua a girare, e anche solamente il fatto di rimanere a casa, di restare a casa, di non uscire, di stare lontani, l'hanno venduto come, hanno messo come fosse un'arma, un mezzo di difesa verso un nemico invisibile, un invasore invisibile, più o meno visibile, che però è impalpabile in concreto, quasi una specie di regime, una realtà parallela, distopica, adesso poi ultimamente il cinema, tirano fuori film distopici, dove parlano di virus, di epidemie, di zombie, apocalisse zombie, e fino all'altro giorno, magari, quelli che fanno cosplay, così, facevano gli zombie, no, facevano, come quando da bambino, magari giocavamo con le cerebrotane, o le pistole finte, no, salve, e io mi avevo anche la cartucera originale della seconda guerra mondiale, e pur si mettevano le mascherie anti gas, le mascherine, che andava in rave, che andava, così, quelle mascherine, e adesso tutti c'è la mascherina, tutti, tutti vanno a girare, per l'estate, con sta mascherina, e, di tutto, la cosa non è normale, se la mettevi fino a, un, due mesi fa, se la mettevi, così è stato un matto, un, 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 un paranoico, un, non so cosa, un, un carnivale, non è ma adesso, invece, è normale, anzi, se non la mette, si è considerato un criminale, una persona da eliminare, da, da arrestare, anche, perché no, e, e, niente, e, in differenza dagli altri, dagli altri, dagli altri, per gli altri anni, da, da, il periodo storico da cui penso che da quest'anno ci stiamo staccando, perché io non voglio paragonare certamente questa pandemia a un Hiroshima, un Hiroshima biologico, in questo caso, ma qualcosa del genere, più che un olocausto virale, io lo vedo più un olocausto mediatico, quantistico quasi, più che mediatico, quantistico, perché non è solamente un discorso di informazione, di campagna, eh, mediatica, propaganda, roba del genere, è qualcosa di più sottile, di più profondo, che non è solo legato a notizie false o dichiarazioni gonfiate o dibattiti accesi, privi di fondamento, è qualcosa di più profondo, mh, che segna non solamente il comportamento e le nostre vite, nei giorni e forse anche negli anni futuri, ma segnerà che la nostra, profondamente la nostra psicologia, il modo di vedere il mondo, il modo di vedere la società, il modo di vivere la società, il rapporto con gli altri, il mondo del lavoro, a parte la crisi economica, la recessione, tutti gli altri problemi legati a questo blocco così improvviso e profondo e, insomma, parecchio drammatico, ma anche dal punto di vista psicologico, e soprattutto, cioè, non abbiamo i mezzi che magari i nostri nonni, i nostri padri potevano avere, nel bene o nel male, bene o male i problemi che avevano allora, non sono tanto diversi da quelli che abbiamo adesso, chiesa occupazione, chiesa economica, miseria, anzi, sicuramente noi ci lamentiamo, ma comunque noi parliamo di due mesi, lì si parla anche di qualche anno, insomma, si sono riboccate le maniche, ci sono state comunque periodi pesanti e ci sono voluti almeno una trentina, quarantina d'anni per uscirne e ancora adesso ci stiamo ancora dedicando le ferite, nonostante i garofani rossi, nonostante le bandiere tricolore, che non sono mai andate via, anche quello è una cosa strana, che tutti i comunisti, tutti col tricolore, non lo so, poi è chiaro, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ognuno annaffia il suo orticello e ognuno chiaramente si tira, se lo tira per i fatti suoi, ovviamente dall'altra parte anche i fascisti devono festeggiare comunque la morte di Mussolini, fanno fare la veglia predappio alla tomba di Mussolini, io qualche anno fa così avevo provato a propormi, a chiedere se potevo andare, potevo andarci anch'io alla veglia, l'ammetto, l'ammetto, l'ammetto che anche io qualche anno fa ho avuto la tentazione di andare anch'io a partecipare alla veglia, alla tomba di Mussolini, ma solo per assicurarmi che non si svegliasse, perché forse io dico che in questo periodo di apocalissi e di pandemie, ormai se non si svegliano gli zombie, comunque qualcosa legato al voodoo o roba del genere potrebbe anche accadere ormai, non si spiegherebbero le cremazioni e tutte queste morti improvvise e strane in poche settimane e adesso questo calo di contagi, di vittime, di morti che continuano a esserci, perché dicono che continuano a esserci, bisogna tenere ancora la tensione alta e si continua a morire e bisogna ancora stare in casa e quindi non bisogna fermarsi, anzi bisogna continuare a combattere ed è proprio per questo che volevo fare questo video, proprio per riflettere su questo, quest'anno il fatto di festeggiare la liberazione non ha tanto senso, perché alla fine vogliamo parlare di liberazione chiusi in casa, di parlare di libertà in un periodo dove dobbiamo vederci da uno schermo che ci prospettano un futuro dove ci aspettano dei muri, degli schermi, delle distanze, non solamente fisiche ma anche morali, sociali e psicologiche, quindi dov'è questa distanza, dov'è questa liberazione, non ce la vedo questa liberazione, e la strumentalizzazione del bella ciao dai balconi, cantiamo dai balconi, cioè noi festeggiamo la festa che ci siamo liberati da uno che parlava da un balcone, cantando dai balconi, e poi anche il discorso sul fascismo, ci sono tanti tipi di fascismo, tanti tipi di nazismo, e anche il comunismo stesso non è tanto diverso, io in questi anni, soprattutto in questo periodo che sono chiusi in casa agli esteri domiciliari, ho avuto modo di leggere e di riflettere e di meditare su queste tematiche, e alla fine comunque nel picco della mia esperienza da, ripeto, da ignorante, da povero operaio del cazzo, che non è che, non sono un militante, non sono un militare, non sono un cazzo, non sono mai stato un cazzo, e non voglio essere un cazzo, senso ampio del termine, quindi io mi ritengo anarchico, anarchico non nel senso del quello che scende per strada col megafono a urlare, voglio il reddito di universale, di esistenza, voglio spaccare il mondo, voglio rompere le vetrine, bruciare tutto, eccetera, 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 ma cerco di guardare il mondo da un oblo, come diceva la canzone, e di guardare il mondo da un punto di vista esterno, non facendomi coinvolgere più di quel tanto, ma guardando in maniera esterna, cosa vedo, cosa c'è, come guardare uno spettacolo teatrale, magari posso prendere la parte di quel personaggio, del protagonista, dell'antagonista, perché no, ma cerco di guardare cose con obiettività, soprattutto in questo periodo di bombardamento di notizie, e anche questo è un altro punto dove dovremmo veramente baciarci i gomiti, dove siamo in un paese, in una anche zona geografica che per fortuna, e qua dovremmo abbracciarci i gomiti veramente, possiamo ancora fare queste cose come questo video, come cantare dai balconi, come esprimere comunque il nostro pensiero, con battute, con anche magari cose anche più forti, ma azioni anche più incratanti, nei limiti ovviamente del distanziamento sociale, fisico, politico, e possiamo comunque esprimere il nostro parere, nonostante comunque le censure, però dove il bombardamento non è chiaramente un bombardamento di armi convenzionali, non è che ci bombardano, anche perché un rifugio antiaereo adesso è un po' complicato, non tanto per la fila, che sarebbe comunque una strage, ma anche solamente per il distanziamento sociale, insomma è un po' un problema, e quindi, che però anche allora, per assurdo, avevano disponibilità più di mascherine anti gas, allora, con filtre e tutto quanto, che noi di mascherine oggi, ma per assurdo, quello bisogna dirlo, bisogna ammetterlo che, almeno, vuoi dire, i fascisti, i nazisti, così, ma almeno i nazisti, le mascherine anti gas, lo avevano tutti, tutti, gli ebrei no, ma loro sì, quindi, noi no, non è neanche quello, quindi, che anche allora avevano le loro epidemie, le loro cose, insomma, avevano modo comunque di esprimersi, di lottare, magari un'altra mentalità, non avevano i mezzi che abbiamo oggi, noi abbiamo tantissimi mezzi, tantissime possibilità, però nello stesso tempo siamo, siamo a rischio, perché comunque non è che siamo, non è che abbiamo un nemico, che si vede, non abbiamo un nemico, il problema è quello, che siamo in tempo di pace, ma in guerra, siamo una guerra borghese, di pace, quindi non è che siamo contro qualcuno, siamo contro qualcosa, contro, non un essere umano, ma contro un virus, creato in laboratorio, trovare in natura, ma che esiste, c'è sempre stato, oppure è nato da qualche anno, però è una malattia, cioè, la mia generazione poi era cresciuta con il concetto che certe malattie infettive, dovevi prenderli da bambino, perché così diventavi immune, comunque le avevi già fatte, non ti dovevano più, ti stimolavano gli anticorpi, insomma, oppure facevano le campagne di vaccinazione, comunque i vaccini era una cosa normale, perché magari non erano, c'era meno informazione, c'era meno, o erano altri, erano vaccini fatti in maniera diversa, non avevano tutti gli effetti collaterali che possono avere adesso, e poi magari c'erano altri interessi dietro, e comunque magari avevano anche un governo forte, più o meno forte, o comunque più o meno con gente che sapeva quello che voleva, nel bene e nel male, ripeto, non dico che erano tutti bravi, anzi, erano criminali di adesso, ma almeno sapevano cosa facevano, bene o male, o perlomeno sapevano, avevano le idee chiare, cioè uno era da una parte, l'altro era dall'altra, non è che uno era da una parte, poi cambia idea, e poi cambia idea di nuovo, e poi cambia idea di nuovo, e poi se la gira dall'altra parte, poi lui dice qualcosa, se la prende male, quindi se la gira come vuole, lì erano da una parte e dall'altra, e così, per quanto erano divisi, sono i confini e tutto quanto, comunque le cose, nel bene o nel male, si andava avanti, adesso invece, tutto è il contrario di tutto, tutti si scandalizzano, tutti hanno paura, tutti vengono manipolati mentalmente, io ho questa convinzione, questa impressione, forse è una mia impressione, forse sono io che ho la mentalità da complottista, cerco di guardare il marcio dietro a tutto, forse è tutto che è marcio, e quindi, cerco di guardare morbosamente il fatto che il re è nudo, e mi viene magari anche rabbia di non poterlo dire che è nudo, ma non so solo io che dico che è nudo, tanti altri possono dire che è nudo, ma alla fine siamo in un'epoca dove nessuno si scandalizza più, quindi anche se dico che il re è nudo, magari possono anche accusare di essere un bigotto, si scandalizza per niente, siamo moderni, quindi se è anche un bel fisico, quindi se è nudo è meglio così, eccetera, no? Tutte innamorate di sto qua, che è nudo, è un bel fisico, quel gran pezzo di Marco Antonio, no? E alla fine, cioè, si creava proprio la manipolazione mentale, quindi anche la realtà stessa, per quanto sia palese, per quanto si può anche toccare con mano, sempre con i guanti e nel rispetto di distanziamento sociale, fisico, morale, psicologico, la realtà è distorta, perché comunque mi possono dire tutte le cifre, i numeri che vogliono, ma alla fine i numeri mi interessano a un certo punto a me, a me come povero stronzo, in caso di integrazione che aspetta solamente di riuscire a ritornare a vivere come prima, tutto lì, ovviamente la mia opinione non conta un cazzo, ovviamente non cambia da niente, però almeno io cerco di mantenere, di essere coerente con le mie idee, con il mio pensiero e anche nelle mie azioni, infatti alla fine anche aderire a questa iniziativa, questa bella iniziativa di cantare bella ciao dal balcone, cioè alla fine io sono qua in casa mia, posso andare al balcone, ma sarei solo un povero stronzo che canta bella ciao da solo e che cazzo serve? A niente, no? E comunque magari se la cantassi così alla cazzo non serve a niente, se magari dovessi cantare anche facendo il video come faccio adesso non cambierebbe niente, solo che un conto è fare il video cantando bella ciao dal balcone, è un conto invece sfruttare questo mezzo, questa possibilità che ripeto mi bacio i gomiti e anche i maroni in capriola per poterlo fare, per poterlo fare, ringraziando anche chi ha combattuto per darmi questa possibilità, chi ha studiato, chi ha dato la possibilità di fare questo, da una parte e dall'altra, è che alla fine è per assurdo oggi anche l'anniversario della nascita di Julio Marconi, Julio Marconi per quanto sia, per quanto aderisse al regime fascista ha comunque fatto delle scoperte, ha comunque fatto delle intuizioni che ci hanno portato alla vera possibilità, per assurdo, di riuscire a esprimere le nostre idee attraverso le onde elettromagnetiche, attraverso le onde radio e quindi arrivare anche a fare il video di quei poveri stronzi che stanno sul balcone a cantare bella ciao e facendo il video e trasmetterlo anche ad altri come loro che cantano in coro sul balcone bella ciao e quindi è un altro paradosso quantistico di questo periodo storico strano e particolare che ripeto è davvero tutto molto surreale, molto interessante ed è questo che volevo più che altro fare il punto e riflettere su questo, non è tanto guardare il passato, la memoria che è importante, è una base importante ma rimane è una base su cui appoggiarsi per ripartire, però noi non dobbiamo vivere il passato, siamo arrivati a questo anche perché magari ci siamo appoggiati troppo al passato e quindi forse è ora di pensare al presente questo momento di blocco forse però averci dato anche la possibilità di fermarsi a riflettere e guardarci intorno poi magari guardarci intorno proprio dal nostro balcone quindi anche da un punto di vista anche elevato, super elevato magari solamente per guardare quelli che uscivano e qua si ritorna un altro discorso e quindi volevo parlare proprio di questo